Allora, l'unica cosa sicura è che il tema deve essere l'unità d'Italia. Forza! L'importante è trovare un titolo accattivante e i giochi devono essere strepitoso. I rioni, i rioni, i rioni. Le frazioni! Non bisogna puntare sulle frazioni. San Bono, strada, il po' da... Il viola... Sì, è già! Non è mezzo, non è mai fatto il fatto. E' un paio di ordine a tutti. Praticamente, cioè, tipo un gioco che... Mentre il carrello, il sasto... Oh, capito? Ah! Non è mai facendo la stessa. Siamo il mio amare, il viola... Ma chi conosci? Noi della radio. Che non gli piace, ragazzi? Siciliano. No? No, per tutto noi della radio. No. Ciao, ragazzi. Allora, ragazzi, io non capisco una segaccia a nulla. C'è... Tu sei con i frontieri. L'aperitivo, immagini e fai giurlare. Poi che c'è? Ma dille, famiglia. Vai, che è bravo. Allora, i posti sono o in piazza, o in piazza Vassallo, che è quella da giù della birreria, o quella di là della coffe, che si chiama? Piazza delle cantine. Ma il giorno preciso? 17.10. Che si chiama? Sì, non lo sa. Sì, ma il titolo? Ce l'ho. Frazioni d'Italia. La festa delle unità. Ma se si amasse i canti? Se si amasse i canti senza frontiere? No, però pensavo, non è se si fa giocare le frazioni, si fa fare una squadra, però. Ma le ragazze fanno già le frazioni? Cioè, perché la bisogna avere? Lei ha 18 anni! Oh, ma questa cosa? E che si fa a tutto questo lavoro? Otto squadre. Otto frazioni. Un 17 dalle 15. Un piazza Vassallo. Giochi a go-go. Aperi cena. E tanta musica! Un 17 dalle 15. Un 18 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 dalle 15. Grazie.